Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente oggi lungo l'autostrada A4 tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno, quattro i mezzi coinvolti, due automobili, un furgone e un mezzo pesante che si è completamente rovesciato. Tre le persone che sono rimaste ferite in maniera seria. A provocare guai maggiori per la circolazione è stato il mezzo pesante e una cisterna che si è rovesciata a metà tra una careggiata e l'altra. La circolazione è andata completamente in tilt. Per la rimozione del mezzo pesante è stato necessario l'intervento di una particolare gru. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione mezzi è stata necessaria la chiusura del tratto autostradale. A metà pomeriggio la coda di veicoli aveva raggiunto i 17 chilometri. E nel primo pomeriggio di oggi un treno ha investito un pedone a Treviso. Non sono ancora chiare le circostanze su come sia accaduta la tragedia, ma secondo alcuni testimoni le sbarre erano abbassate. Quindi al momento non si può dire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto volontario. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia ferroviaria. Le generalità della vittima non sono state diffuse. La circolazione ferroviaria ha subito delle gravi ripercussioni. E adesso torniamo a parlare ancora una volta dell'omicidio di Lucia Bellucci, uccisa dall'ex fidanzato veronese, depositata la perizia medico legale. Sentiamo cosa è emerso. Proseguono le indagini sulla morte di Lucia Bellucci, la 31enne massacrata dall'ex fidanzato veronese. Gli esiti dell'esame autoptico hanno evidenziato le modalità utilizzate per commettere l'omicidio. Lucia prima sarebbe stata immobilizzata e poi uccisa con l'arma da taglio. La giovane sarebbe stata colta di sorpresa dall'attacco di Vittorio Ceccolini, avvocato di 45 anni. Lei lo avrebbe respinto e lui a quel punto l'avrebbe morsa ad un braccio. La marchigiana sarebbe stata quindi bloccata e impossibilitata a difendersi. Prima il suo ex avrebbe tentato di strangolarla, ma poi l'avrebbe uccisa con quattro coltellate, una al cuore e tre ai polmoni. Sono queste le conclusioni della perizia medico legale effettuata e già depositata dal medico Dario Ranieri dell'Istituto Medicina Legale di Verona. Le indagini proseguono per delineare la ricostruzione della terribile vicenda. Intanto sembra sempre più plausibile la premeditazione del delitto. Di alcuni giorni fa anche la notizia che l'arma da taglio usata dal veronese era un coltello usato dai Marines, comprato con carta di credito qualche giorno prima dell'omicidio. Qualcuno parla anche di altre lettere che l'uomo avrebbe scritto, ma al momento restano da appurare. Intanto Vittorio Ceccolini ha cambiato i suoi legali, passando dal collega di studio Guariente Guarienti che ha lasciato, così come aveva già fatto Fabio Porta, a Marco Stefanelli e Umberto De Luca. E adesso parliamo di una disavventura capitata a dei turisti veneti. Una coppia di fidanzati, un padovano di 31 anni, una giovane originaria della Repubblica Ceca di 29 anni, residenti nel padovano, è stata rapinata durante una vacanza in Tanzania. I due che non hanno denunciato l'episodio alle autorità locali, ma l'hanno fatto appena rientrati in Italia, i carabinieri di Vicenza hanno raccontato di essere stati assaliti da una banda formata da sei individui di colore. Di questi due erano armati di coltello. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, nato in Albania, residente a Treviso. L'uomo accusato di una serie di furti in abitazioni turistiche, furti compiuti nel mese di agosto a Lignano. L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato al termine di un furto avvenuto in via Raggio di Giove. I militari hanno recuperato tutta la refurtiva, denaro contante e monili d'oro per almeno 9 mila euro. Le investigazioni hanno consentito di attribuire allo stesso uomo altri 4 furti compiuti sempre nella stessa zona di Lignano. Appello dell'Ulss 8 di Asolo. Una ragazza che era a bordo di un pullman proveniente dalla Macedonia e scesa, questa ragazza a Vidore in provincia di Treviso, nella giornata di domenica, è stata colpita da meningite. Tutte le persone che erano a bordo di quel bus devono essere sottoposte a profilassi. Per questo viene lanciato un appello. Sentiamo. Una ragazza di 24 anni di origine macedone, residente nella zona di Valdobbiadene, è stata ricoverata all'ospedale di Feltre colpita da meningite batterica. La giovane donna era rientrata domenica scorsa dopo un lungo viaggio in pullman dalla Macedonia. Era scesa a Vidore. L'ufficio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 8 lancia un appello a quanti hanno effettuato il viaggio con lei, perché devono essere sottoposti a profilassi. L'attività di ricerca è già partita, ma l'Ulss di Asolo invita quanti fossero a conoscenza delle persone che erano a bordo del pullman, dove c'era la giovane, a fornire indicazioni sui nomi. Tutte le persone che hanno preso parte al viaggio devono rivolgersi al servizio igiene e sanità pubblica, in modo da valutare la possibilità di eseguire la necessaria profilassi prevista in questi casi. Il sabato e la domenica è possibile contattare il medico reperibile tramite il centralino dell'ospedale di Montebelluna 0423 61 11. Dalla provincia di Padova armati di Taglierino e con il volto coperto da maschera di carnevale in gomma, due sconosciuti hanno rapinato la cassa di risparmio del Veneto di Via Grandi a Vigonza. I due hanno intimato l'alte, preteso la consegna del contante presente in cassa, ingente il bottino, 20 mila euro. I balordi sono poi fuggiti a bordo di una Mercedes station wagon di colore grigio. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno già avviato le indagini. E tragedia nel pomeriggio di ieri a Carmignano di Brenta, restiamo ancora nella zona dell'alta Padovana. Lidia Sofia, 55 anni, è morta all'interno della piscina del giardino della sua abitazione. A trovare il corpo è stato il marito quando è rientrato a casa. Non è chiaro cosa sia accaduto. Forse la donna stava prendendo il sole sul materassino che si potrebbe essere rovesciato oppure potrebbe essere caduta in acqua per un malore. Le cause del decesso dovranno essere stabilite dal medico legale. La vittima di questa tragedia è la moglie dell'assessore all'ambiente del comune di Carmignano di Brenta, Tiziano Sarzo. Il comune di Venezia ha deciso di mettere all'asta alcuni immobili che non godono di particolare interesse per l'amministrazione. Un modo per creare delle nuove entrate e offrire maggiori servizi ai cittadini. Capiamone di più. Il comune di Venezia ha presentato un piano delle alienazioni di propri immobili in tutto 14 lotti per un valore totale delle varie basi d'asta di 31 milioni di euro. Si tratta di un piano di alienazioni patrimoniali come strumento voluto e non certamente subito. La precisazione arriva dall'assessore comunale al patrimonio Alessandro Maggioni. Le entrate provenienti dalle vendite non serviranno a coprire buchi di bilancio o sanare situazioni di perdite, ma vogliono aumentare le qualità dell'offerta ai cittadini in considerazione della diminuzione di alcune voci di entrata nel bilancio. All'asta andranno ex complessi scolastici come ex conventi, ma anche fabbriche dismesse, terreni, magazzini, che non godono di un interesse specifico per il comune di Venezia. A Padova oggi cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Luca Terrina, stroncato a 35 anni da una malattia improvvisa che lo ha ucciso in breve tempo. Il giovane figlio dell'ex comandante della Polizia Municipale di Padova, Lucio Terrina, che in questi giorni ha ricevuto tantissima solidarietà dal territorio, almeno 2.000 le persone presenti questa mattina. Dal Ministero della Salute arriva un messaggio per i cittadini. Nessun rischio per la salute umana in seguito ai casi di influenza aviaria che sono stati riscontrati sul territorio. Sentiamo perché. Nessun rischio aviaria per la popolazione italiana. Ad escludere questa possibilità il Ministero della Salute, dopo un incontro durato oltre tre ore, al quale hanno partecipato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzina, con il coordinatore degli assessori alla sanità, le rappresentanze degli allevatori e ovviamente i tecnici. La prevenzione messa in atto da quando sono stati scoperti i primi focolai avrebbe scongiurato la diffusione del virus. Il cordone sanitario è stato attivato da subito con l'abbattimento dei volatili e la distruzione delle uova provenienti dagli allevamenti coinvolti. Il monitoraggio proseguirà finché l'emergenza non sarà cessata. Allo studio anche un intervento per creare un indenizzo da riservare agli allevatori coinvolti. Un fatto di cronaca da Verona. Una turista italiana che era in visita alla città, era vicino alla casa di Giulietta, quando è rimasta ferita da un giovane che stava effettuando una gara di orientering non autorizzata. L'atleta che ha ferito la donna ad un labbro non si è fermato. Mentre sono scattate le operazioni di soccorso nei confronti della turista, sono state allertate le forze dell'ordine che hanno cercato e individuato il protagonista dell'incidente che nel frattempo continuava la sua attività. Era privo di documenti e per questo è stato portato al comando per l'identificazione. La polizia locale è risalita agli organizzatori e agli atleti esperti della specialità di orientering. Tutti della Repubblica Cecca avevano organizzato la gara nello storico centro cittadino. Senza chiedere alcun tipo di permesso. E adesso Padova in primo piano. Stamane al comando provinciale dei carabinieri di Padova in via Rismondo si sono svolti dei momenti davvero molto particolari. La visita del comandante della legione carabinieri Veneto, il generale Sabino Cavaliere. Una visita di commiato e saluti per l'imminente partenza del comandante provinciale Renato Chicoli. Ma sono stati consegnati anche degli encomi semplici a uomini dell'arma che si sono prodigati in operazioni particolari sul nostro territorio. Vogliamo allora dedicare alcuni minuti a questa mattinata davvero speciale. Allora cominciamo con il momento della consegna degli encomi. Guardate. Al comando provinciale dei carabinieri di Padova cerimonia per la consegna di encomio semplice in favore del luogotenente Massimo Andreozzi, comandante della stazione di Pionca di Vigonza, del brigadiere Giovanni Businelli, appuntato scelto Stefano Fattoretto e Alessandro Schipa per aver partecipato ad una prolungata attività di indagine che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di un ingente traffico di droga. Sette le persone arrestate nell'operazione. Riconoscimento anche al maresciallo capo Claudio Girolimetto, all'appuntato scelto Luigi Marcis, agli appuntati Roberto Buonocore e Alessandro Magno che a Campo San Piero hanno salvato la vita a due inquilini rimasti bloccati all'interno della loro casa rimasta coinvolta da un devastante incendio. E l'arma dei carabinieri è alla soglia dei 200 anni dalla sua nascita. Uomini che vestono una divisa credendo nel valore che rappresentano e nel ruolo che quotidianamente investono dedicando la loro vita all'impegno per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Alla cerimonia di questa mattina rappresenta il comandante della legione carabinieri Veneto, il generale di divisione Sabino Cavaliere che ci ha rilasciato un'intervista molto interessante sul territorio e anche riservato delle parole particolari sul colonnello Renato Chicoli in procinto di lasciare Padova dopo anni di impegno alla guida del comando provinciale. Ascoltiamo. Oggi è una giornata importante, visita di commiato e di saluti. Sì, ho cominciato a fare questi giri per i comandi provinciali oggi ero dedicato a Padova e sono venuto a Padova e l'ho fatto anche in anticipo rispetto ai tempi in cui io lascerò l'incarico proprio perché avevo piacere di salutare il reparto alla presenza di chi lo ha comandato negli ultimi tre anni, del colonnello Chicoli che ha avuto la costanza di esercitare un'azione di comando equilibrata e molto autorevole e trascinatrice soprattutto che ha portato questo comando a successi veramente notevoli che hanno avuto il riconoscimento da parte sia della cittadinanza che delle autorità anche a livello centrale. e quindi volevo testimoniare questo splendido coronamento di un'azione corale da parte di tutti sotto la guida di questo ottimo comandante provinciale e testimoniarlo alla presenza di tutte le varie componenti del provinciale. Ed è per questo che ho anticipato la visita proprio veramente con molto piacere. Quindi sostanzialmente parliamo di un bilancio davvero molto positivo? Parliamo di un bilancio positivo ma che ha ottenuto, ripeto, il riconoscimento corale anche recentemente da parte di autorità esterne anche all'arma in un momento particolare della vita sia del Paese con le difficoltà economiche che ha attraversato il Paese e che sta attraversando il Paese ma anche di particolari allarme sociali che avevano testato alcune situazioni che erano avvenute qua a Padova e nella provincia. Infatti lei prima ha parlato, si è soffermato sul fatto che gli uomini dell'arma sono stati vicini alla cittadinanza oltre al loro compito normale. Sì, questa è una funzione sociale che ci è stata riconosciuta ma che io oggi ho richiamato all'attenzione dei miei collaboratori che viene esercitata in maniera spontanea. Io ho detto, questo è nel vostro DNA voi non fate caso a quello che succede quotidianamente ma è il cittadino che bene dà atto di questa vostra funzione. spesso in un momento così difficile le nostre stazioni, i nostri comandanti di stazione sono stati chiamati a rivolgere la loro attenzione alla sofferenza della cittadinanza in un momento di difficoltà economica. D'altra parte non svelo un segreto se in quest'area abbiamo avuto ben 50 vittime 50 imprenditori che hanno perso la vita ma altrettanta difficoltà hanno trovato le famiglie e spesso l'ancora di salvezza è stato il consiglio è stato l'ascolto da parte del carabiniere a cominciare dal comandante di stazione al carabiniere giovane che magari era appena arrivato alla stazione e devo dire che questa opera di sensibilizzazione sociale ha avuto degli influssi benefici. Abbiamo sentito nell'intervista le parole del generale Salvino Cavaliere ma adesso ascoltiamo il colonnello Renato Chicoli che sta per lasciare Padova e andrà a Roma per assumere l'incarico di direttore della direzione investigativa antimafia. Colonnello, allora un bilancio di questi anni trascorsi a Padova? Sono stati tre anni di impegno di impegno fattivo credo che possiamo essere soddisfatti di quello che è stato fatto posso essere soddisfatto di questa esperienza un'esperienza assolutamente positiva ringrazio tutto il mio personale e i miei collaboratori per quello che hanno fatto credo che abbiamo interpretato il senso del ruolo del carabiniere nell'ambito della società abbiamo dato delle risposte importanti abbiamo risolto casi importanti ma più che altro abbiamo dato sicurezza e presenza sulla strada. Lei tra l'altro è arrivato in un momento in cui Padova stava vivendo un periodo abbastanza difficile e vi è stato un grandissimo cambiamento in questi tre anni. Sì, mi ricordo il primo giorno di servizio questi due omicidi nella città che avevano sconvolto abbastanza l'opinione pubblica sia noi che la polizia abbiamo poi dato una risposta importante arrestando gli autori ma più che altro il lavoro che è stato fatto successivamente è stato un lavoro che ha cercato chiaramente di incidere su quella che è la sensazione di insicurezza che comprendiamo è una sensazione che è dovuta anche a tutta una serie di fattori per quanto riguarda noi cerchiamo per quella che è la nostra possibilità e per quelle che sono le nostre potenzialità di dare le risposte più efficaci che possiamo dare. Secondo lei in questo momento quali sono le principali problematiche del territorio padovano? Le problematiche del territorio sono in questo momento credo legate molto alla situazione economica del Paese questa situazione di stabilità e di difficoltà di molte imprese è chiaro che incide su quello che è il sociale in generale quindi la mancanza di posti di lavoro a cui probabilmente questo territorio non era abituato può essere fuori era di aumenti della criminalità però i segnali che ci arrivano comunque di un territorio che si sa autoregolare quindi credo che la situazione nella provincia continuano ad essere una situazione apprezzabile di sicurezza pubblica. Allora lei sta partendo dalla nostra città quella di Padova dove ha vissuto dunque con grandi risultati abbiamo sentito anche il generale prima lei cosa si porta via della nostra città? Cosa le resta dentro? Quello che ho cercato di interpretare come ruolo come comandante provinciale è quello di vivere la città come un cittadino normale quindi un cittadino di Padova e di fare in modo che la vita di Padova possa essere la migliore possibile Ritengo che questa sia una città assolutamente piacevole dove si vive bene dove i servizi funzionano e anche la stessa provincia è una provincia operosa dove la gente si spende perché la vita sia la più possibile agiata la più possibile migliorabile In bocca al lupo Grazie E adesso siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio dedicato all'informazione prima però uno sguardo a cosa prevedono gli esperti del clima per la giornata di domani generalmente avremo un cielo sereno poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti al mattino per delle nubi basse a ridosso dei rilievi e per qualche velatura nonché per locale attività nuvolosa sulle zone di montagna a partire dal pomeriggio è tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro una buona serata arrivederci a domani a partire dal pomeriggio